Allora se la parola al consigliere Bruzzi. La prima considerazione che volevo fare era anche io sul metodo ma Salvatore ne ha parlato parecchio. L'assessore alla cultura ha ribadito la necessità di una condivisione che forse prima non era completa ma che comunque prevedeva sempre l'ascolto delle parti all'interno del forum sociale perché ci sono degli organismi che sono deputati proprio a permettere un coinvolgimento e che mi sembra che in questa situazione non siano stati nemmeno presi in considerazione. La questione fondamentale al di là del fatto che bisogna avere coerenza quindi quando si dice che ci sorgono dei dubbi sull'aspetto culturale, sull'aspetto della tutela delle tradizioni, sull'aspetto della tutela del territorio e della storia e poi si vota favorevolmente a un progetto che va ancora analizzato io chiedo coerenza. Se votiamo questa delibera votiamo un progetto che deve essere ancora analizzato perché io non ho avuto nessun progetto da analizzare io non ho ricevuto un progetto non so di che cosa si parla io oggi pomeriggio ho ricevuto questo perché ho avuto la possibilità di averlo in visione e qui non c'è scritto niente non è un'analisi progettuale non è un'analisi fattuale non è nulla. Io qui leggo Montalto di Castro nacque quando l'Aquila dei Cesari chiuse le ali e smise di volare sullo sterminato impero. Io non posso accettare un'analisi storica di questo genere e non posso pensare che l'assessore alla cultura possa passare un documento del genere in consiglio comunale. No, devo finire l'intervento. Poi dopo rispondi con tranquillità a tutte le cose che chiedo perché ne ho da chiedere parecchie. Innanzitutto quindi il livello culturale dell'operazione nonostante che io conosca perfettamente che all'interno di questa operazione ci sono dei consulenti che hanno delle capacità ed un livello organizzativo eccezionale ed eccellente. E mi riferisco al presidente dell'autorità Moscherini che quando era presidente dell'autorità del porto di Civitavecchia è riuscito a far diventare quel porto il massimo UB a livello turistico e commerciale d'Italia con un incremento delle crociere, della presenza del turismo crociaristico che prima noi ce lo sognavamo. Quindi posto che la presenza di questi soggetti, di questi consulenti a me darebbe la massima fiducia, la massima sicurezza sulla progettazione di un'operazione a carattere commerciale perché questa è un'operazione a carattere commerciale, io mi domando come può un'operazione di carattere commerciale di questo genere essere posta in associazione con la nostra storia, la nostra cultura e con le difficoltà che sta incontrando adesso il parco di Vulci. Noi non possiamo dimenticare che abbiamo un parco naturalistico, archeologico, che vive di vita propria e che non ha bisogno di costruzioni di cemento, di plastico o di altro. Io mi domando qual è l'aspetto progettuale e fattuale che ha convinto questa giunta a portare in Consiglio Comunale un progetto che ancora progetto non è. Perché in Consiglio Comunale ci si porta altro, ci si portano dei progetti che abbiano garanzie specifiche e che abbiano le linee chiare e comprensibili a tutti. Quello della comprensibilità e della comunicazione e del dialogo con la cittadinanza è una cosa su cui io ribadisco e mi impegno tutte le volte a parlarne e a sottolinearlo e l'assessore Mezzetti lo sa perché poi lui di solito è il mio contraddittore in queste situazioni, di solito il mio contraddittore è naturale, ma oggi io mi vedo portare un progetto di dimensioni faraoniche che potrebbe essere veramente un'occasione di sviluppo meraviglioso per il nostro territorio. Ma è un progetto rispetto al quale io non so nulla, non mi avete detto nulla, io non lo so chi è la società Roma Park, io conosco un consulente, gli altri io non li conosco. Vedo una brochure che fa riferimento a dei film, forse degli anni 70, perché ho visto i cartelloni che mi sembravano degli anni 70, Roma Vetus, e non vedo nient'altro. Allora qual è la politica culturale turistica di Montalto di Castro rispetto a quelle che sono le sue tradizioni e la sua storia? E questo diciamo è la mia analisi da un punto di vista di livello culturale e storico dell'operazione, che io critico radicalmente. Considerate che io non ho mai delle posizioni preconcette rispetto a niente, io quando ho qualcosa su cui io devo votare, prima l'analizzo, la verifico, non mi piace dire un no a priori, ma io qui purtroppo devo dire un no a priori perché mi sono stata a chiamare una cosa che non esiste, che non c'è. E il fatto che questa cosa ancora non esista è chiarissimo perché è la stessa Roma Park che ce lo dice. Ce lo dice nella sua nota, nella nota del 20 maggio, in cui alla lettera A si legge in seguito a un vostro accoglimento della proposta vi rimetteremo entro il mese di maggio uno studio di fattibilità. Non c'è lo studio di fattibilità, perché noi andiamo ad approvare un qualcosa che è privo dello studio di fattibilità. Allora, diamo uno sviluppo al territorio, va bene, però diamolo con coerenza, prima cosa, e la coerenza è essere legati alle nostre tradizioni, essere consapevoli delle ricchezze che abbiamo e essere consapevoli di quanto la storia che abbiamo sulle spalle ha anche influito sulla nostra formazione identitaria. E questa è una prima cosa. Ma lo studio di fattibilità è uno studio di fattibilità anche economica, perché non è che noi abbiamo un anello al naso. Quindi ogni volta che qualcuno viene e ci presenta un progetto e ci propone un investimento e ci dice, ci incanta con le sirene del facile guadagno, visto che la nostra è stata un'esperienza territoriale che è stata piena di aspetti positivi da una parte ma anche molto negativi dall'altra, noi abbiamo avuto anche molte ditte, molte società, molti imprenditori che adesso stanno ancora pagando, scontando determinate situazioni. Allora, con riferimento a questo tipo di problematiche, io mi sono appuntata a alcune cose che io oggi chiedo, perché ho bisogno di saperle. Io se non so queste cose non posso votare e ritengo che se non si sanno queste cose non si può portare un progetto in consiglio comunale. Innanzitutto io non ho avuto modo personalmente di trovare tra gli atti un certificato camerale, una visura camerale relativa alla società Roma Park, per vedere la compagine sociale, per sapere se per caso nella Roma Park c'è una componente magari straniera, come è successo in altri casi simili qua a Montalto. Non ho mai visto un'analisi degli ultimi bilanci della società, perché noi affidiamo parte del nostro territorio a un soggetto giuridico che ha avuto un'attività precedente, vediamo prima come lavorava, se ha lavorato bene, facciamoci dare garanzie, cerchiamo di lavorare serenamente. Non pare provato che la società Roma Park abbia già acquistato la disponibilità dei terreni e degli immobili, perché nella delibera di oggi si chiede come requisito minimo che la Roma Park ci attesti l'acquisto dei terreni. Non appare depositato alcun piano di fattibilità, e questo l'ho detto, allegazione che la società Roma Park ha deciso di rinviare successivamente all'accoglimento della sua proposta progettuale, quindi noi stiamo parlando non di un progetto, ma di una proposta progettuale, che è tutta una cosa diversa, cioè stiamo proprio nell'iperuraneo tra le nuvole. Nulla è stato richiesto dall'amministrazione comunale e nulla è stato descritto dalla società Roma Park SRL in termini di quantificazione degli oneri e dei costi a carico dell'ente comunale relativamente a quello che saranno le opere di urbanizzazione connesse al completamento della struttura. Ci saranno forse 12.000 visitatori al giorno, speriamo, se la faranno, speriamo. Che tipo di strade dovremmo avere? Che tipo di modifica territoriale dovremmo fare? Quanto costerà all'ente territoriale dotare quella zona di luce, di fogne, di acqua, di strade? Chi vigilerà poi sul completamento delle opere di urbanizzazione? Non risulta che l'amministrazione abbia mai chiesto alla società Roma Park SRL di provare di avere i mezzi per gestire questa manutenzione successiva. Poi, e questo l'ho detto e lo ribadisco, prima di firmare il protocollo d'intesa il sindaco ha firmato il protocollo d'intesa senza nemmeno chiedere un piano industriale relativo all'iniziativa. Quindi è stato firmato un protocollo d'intesa che con un soggetto che non si sa sostanzialmente che giro d'affari avrà. Perché noi, diciamo, forse verranno 12.000 persone, ma perché? Perché abbiamo visto i commenti, le cose che hanno detto sulla progettazione di Tarquinia. Si tratta dello stesso progetto? Io sapevo che Tarquinia era un progetto su 108 ettari, qui ce ne stanno 350. Quindi se lì erano 12.000, qui che facciamo? Per tre? Sono 36.000 visitatori al giorno. Parliamo così, a caso, lanciamo cifre nell'aria. Non è stata condotta un'analisi economica, nemmeno comparativa, se proprio si voleva rendere un servizio alla comunità, delle altre strutture operanti nel settore dei parco giochi. L'Aqua Felix di Civitavecchia, il Magic Rainbow di Valmontone, sono strutture che attualmente stanno scontando una crisi settoriale molto pesante che comporta una perdita secca media del 25%, oppure che facesse emergere un dato tendenziale dei guadagni nell'ultimo quinquennio, anche al fine di verificare i possibili esiti dell'iniziativa in termini di sviluppo economico, di sicurezza occupazionale, perché se noi facciamo quest'opera poi la facciamo per che cosa? Per il lavoro. Allora che cosa abbiamo fatto per verificare la capacità occupazionale? Che cosa sappiamo noi dei lavoratori che verranno occupati quando si farà questo lavoro? Quanti i lavoratori verranno assunti e con contratti a tempo indeterminato? Quale sarà la media dei guadagni annui? Cioè noi stiamo vendendo, tra virgolette, una parte della nostra territorialità, della nostra identità, ma non sappiamo quanto ci costa, non sappiamo quanto sarà il nostro guadagno. E poi il sindaco Caci ha sottoscritto questo atto di impegno nel quale e all'interno del quale non c'è nessuna clausola che impegni la società a partecipare a tavoli di concertazione con i sindacati e altri enti e autorità per garantire in maniera specifica il rispetto della normativa in materia di assunzione di personale, di sicurezza sul lavoro e di trasparenza sui sistemi di finanziamento. Quindi si tratta oggi di andare a votare un qualcosa che non c'è, non si sa che è. Allora se abbiamo dati più precisi, magari forniteceli, ma al momento non può essere che è un no il nostro, non solo alla luce di tutte le considerazioni relative agli svantaggi che si potrebbero creare a carico della zona archeologica, perché anche questo doveva essere oggetto di un'analisi approfondita, in quanto gli effetti del posizionamento di una struttura così megagalattica, faraonica, enorme, su una parte di territorio, potrebbero essere devastanti per quell'altra struttura, per quell'altro sistema così fragile che si basa sull'archeologia, sulla storia, sul rispetto, sulla coscienza di un'identità, che è la zona archeologica, che è il parco di Vulci. Andava analizzato e andava eventualmente previsto una serie di interventi suppletivi o di sostegno. non mi sembra che sia stato fatto niente. Quindi oggi, così come è stata strutturata la delibera per votare Roma Vetus, è assolutamente non votabile. Prego. No, l'ultima cosa, ma ci sta il certificato camerale della Roma Parc SRL agli atti? C'è? No. Beh sì, basta andare alla Camera di Commercio e richiederlo. Ce l'ho io, Presidente? Se lo vuole glielo do. No, non mi interessa. No, io chiedo che venga legato agli atti. Non le interessa il certificato camerale della Roma Vetus? Mi dai il microfono, per favore? Buonasera a tutti. Il mio intervento non è volto a rispondere a quello che hanno poc'anzi detto i consiglieri di minoranza. quanto piuttosto a chiarire alcuni punti che secondo me è importante che non vengano confusi dalle tante parole più o meno attendibili, suffragate da fatti, da prove, più o meno voluti o consapevoli che finora ho sentito e questo a uso e consumo di tutti i cittadini che stanno assistendo a questo Consiglio Comunale. Io ritengo sia indispensabile chiarire a tutti che oggi quello che noi andiamo ad approvare, o meglio, quello che andiamo a votare in questo Consiglio Comunale non è il progetto e la realizzazione a partire da lunedì mattina di Roma Vetus. Lunedì mattina, se oggi questa delibera viene approvata, lunedì mattina non ci sono le ruspe nel territorio di Montalto di Castro che scavano e realizzano Roma Vetus. La delibera che è oggetto oggi di votazione è una delibera in cui noi diciamo, proprio per evitare tutto quello che è successo nel passato in questo territorio, e mi riferisco allo scempio del fotovoltaico, e mi riferisco allo scempio perché comunque è stato uno scempio, della centrale nucleare prima e termoelettrica dopo, mi riferisco ai tanti interventi di cementificazione selvaggia che il nostro territorio ha dovuto subire nei lustri precedenti, onde evitare proprio questi problemi, onde evitare che poi vengano delle società ambigue che non lasciano le fideiussioni e quindi non paghino le ditte del territorio dopo aver fatto i parchi fotovoltaici, onde evitare tutto quello che ciò si è portato dietro come strascico. Noi oggi andiamo a votare una delibera nella quale diciamo a questi signori di Roma Vetus e ecco perché è prematuro oggi avere la visione camerale della società Roma Vetus, perché noi gli andiamo semplicemente a dire, cari signori, l'idea che voi avete avuto e che ci avete accennato ci può interessare, siamo aperti, come diceva giustamente il sindaco, siamo ben disposti a valutare le vostre offerte, nell'interesse del territorio. Sappiate però, se voi siete interessati a lavorare con noi, che con noi si lavora solo a determinate condizioni, che sono delle condizioni per noi indispensabili per andare avanti, per valutare successivamente il progetto e che sono indispensabili per tutelare i nostri cittadini. E nella delibera sono riportate, perché nella delibera si parla di tutta una serie di fideiussioni che servono a garantire il territorio anche per un eventuale ripristino dello stato dei luoghi. Nella delibera si parla di una serie di fideiussioni per garantire i pagamenti delle ditte. Nella delibera si parla del dato di fatto che a lavorare all'interno di questo parco che eventualmente dovesse essere approvato e realizzato, sia durante la realizzazione che successivamente debbano essere impiegate le maestranze del territorio, cioè del paese, e laddove queste maestranze non fossero presenti, abbiamo già previsto già in questa delibera che è assolutamente prematura e preliminare, abbiamo già previsto di fare dei corsi di formazione per queste maestranze affinché poi i nostri giovani abbiano la possibilità di imparare il lavoro che dovrebbero poi andare a fare. Abbiamo previsto chiaramente il fatto che la decisione successiva sarà oggetto di nuovo di un consiglio comunale o più consigli comunali. Abbiamo previsto che durante questa fase che intercorre da oggi, laddove dovesse essere approvata e poi quando invece sarà presentato effettivamente il progetto definitivo, si faccia una serie di incontri in cui si condivida con tutta la popolazione, come abbiamo fatto per tutte le altre cose che hanno riguardato la nostra amministrazione e in cui si spieghi alla popolazione quello che andiamo a fare e che non andiamo a fare. Quindi abbiamo previsto, io direi, praticamente tutto quello di cui abbiamo parlato. E vorrei terminare con questa specificazione perché la frase non mi è piaciuta affatto. Noi non stiamo vendendo nulla oggi e di solito non vendiamo nulla del territorio di Montalto. Noi se facciamo delle operazioni sul territorio sono delle operazioni di investimento, volte allo sviluppo e alla prosperità di tutto il territorio nel suo insieme e non solo ed esclusivamente di determinati settori, parti o componenti specifiche del territorio. Quindi noi oggi in questa delibera non stiamo vendendo nulla. Stiamo solo dicendo, cari signori, siamo qui disponibili ad ascoltarvi, ma sappiate che se volete lavorare con noi le condizioni sono queste. Se le accettate andiamo avanti e valutiamo tutte le proposte che voi riterrete opportune. Se non le accettate, amici come prima, arrivederci e buon lavoro. Grazie. Allora, l'assessore Sacconi. Oggi rompo un po' le scatole, però insomma mi sembra che dopo essere stata abbastanza incisiva nel discorso iniziale, in cui ho detto, lo ripeto e lo rileggo, a livello culturale, secondo me che prima cittadina e poi assessora alla cultura non può garantire una crescita del paese e del territorio circostante perché costruire un parco tematico volto alla conoscenza della letanità quando abbiamo parco di Vulci, città romana, necropoli etrusca, Roma, 100 chilometri, Roma, non c'è nient'altro da dire, Tarquinia, Cerveteri e tutte le grandissime opportunità culturali che abbiamo secondo me Roma-Vetus chiamarlo sviluppo culturale è un po' esagerato, un po' troppo esagerato. Se lo vogliamo chiamare parco tematico, parco giochi, Luna Park, divertiamoci, grande investimento, lo possiamo chiamare in qualsiasi modo ma non lo possiamo chiamare cultura. Io oggi non voto sì al parco tematico Roma-Vetus, io oggi voto sì al recepimento e all'apertura delle porte mie del mio comune all'analisi del progetto che verrà prospettato al comune di Montalto di Castro e ho anche specificato all'inizio del discorso, Paola, che vorrei tanto ma veramente tanto che tutte le considerazioni che io ho fatto oggi siano prese in considerazione nel momento in cui si analizza il progetto perché io sono l'ultima che crede che il parco di Vulci debba essere oscurato dal parco Roma-Vetus che è un parco divertimenti e non un parco archeologico. Ma oltre a me poi ci saranno altri enti che controlleranno la fattibilità del progetto, io non sono un tecnico quindi io posso dire soltanto la mia purtroppo o per fortuna per tanti. Però insomma da qui a dire oggi diciamo sì domani si costruisce il parco Roma-Vetus sinceramente avrei paura anch'io ma sappiamo tutti però vogliamo strumentalizzare delle cose, le vogliamo strumentalizzare come sempre facciamo perché è facile strumentalizzare la politica, le persone, le parole, gli atti, le forme e creare del populismo come sempre viene fatto. Io sono sempre stata in silenzio perché ho voluto semplicemente analizzare quello che accadeva. Allora la strumentalizzazione è il pane quotidiano dell'opposizione di oggi, magari anche di quella di ieri però io oggi sono in maggioranza e in opposizione non ci sono mai stata, ci starò forse. Però io vi dico che oggi voi non potete dire che noi stiamo facendo costruire il parco tematico Roma-Vetus perché state mentendo, state mentendo. Qui sopra ordine del giorno c'è scritto protocollo di intesa per la realizzazione nel territorio di Montalto di Castro del parco tematico Roma-Vetus. Recepimento, per questo motivo non hai sotto mano un progetto, una planimetria, una scheda tecnica, tutto, non hai tutto questo perché loro arrivano, ci dicono questa è la nostra, sono degna del vostro ascolto? Ecco, allora senza analizzare, ascoltatemi così è tutto più semplice. Qua si recepisce un, con questa delibera stiamo aprendo la porta di un ufficio tecnico che dice questa cosa si può fare, non si può fare, i nostri paletti dell'amministrazione comunale e politica e amministrativa sono i seguenti, se i signori di Roma Parca SRL seguono tutte le norme vigenti naturalmente, i limiti che ci sono in alcuni terreni che sono vincolati dalla sovrintendenza per questo, questo e quell'altro motivo, dall'ente regione, da tutti gli enti preposti ad analizzare un progetto, va bene, altrimenti non va bene, però sicuramente tutto ciò che ci siamo detti non è assolutamente non costruttivo, è costruttivo perché nella fase preliminare avere dei dubbi, delle insoddisfazioni, degli interessamenti, qualsiasi cosa, entusiasmo o meno entusiasmo, è una cosa normale perché a oggi noi il progetto per intero non lo conosciamo, ci deve ancora arrivare, lo dobbiamo ancora analizzare, quindi non si dica che lunedì mattina si costruisce il parco Roma Vetus. Presidente, grazie, volevo solamente concludere perché innanzitutto ci sono stati gli interventi che mi hanno tirato in ballo, ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti per gli interessanti consigli che hanno dato, mi riallaccio un po' a quello che hanno detto Matteo e Eleonora, che hanno detto Matteo e Eleonora rispetto alla votazione di oggi, perché è quello che ha detto anche Salvatore prima, il fatto di aver firmato il protocollo d'intesa e non aver fatto prima la delibera di giunta che mi facesse firmare il protocollo d'intesa nasce proprio da un ragionamento contrario, cioè la filosofia di questo Consiglio Comunale è quello che è riportato nell'articolo 1 del protocollo d'intesa che dice che acquisterà operatività ed efficacia in sostanza di indiritto tra le parti, è solo all'atto del recepimento dello stesso da parte del Consiglio Comunale, cioè io firmo il protocollo d'intesa e non lo porto in giunta e faccio a umma umma e quindi lo voto solo la mia maggioranza, ma lo porto in Consiglio Comunale dove è rappresentata tutta la cittadinanza di Montalto di Casso e di Pescia Romana, quindi questa è la filosofia che nasce da un discorso contrario a quello fatto da Salvatore. Dopodiché, ecco mi riallaccio a quello che avete detto voi prima, Matteo e Eleonora, è proprio la votazione del protocollo d'intesa, cioè il recepimento del protocollo d'intesa e quelle che sono le nostre prime garanzie che vogliamo da questa società. Hai detto prima Paola che ti fidi di uno dei consulenti che è il dottor Moscherini, bene anch'io mi fido, quindi sono convinto che poi dopo il recepimento di questo protocollo d'intesa e della votazione di questa delibera porteranno tutti quei progetti, visure, dati eccetera che già gli chiediamo in delibera. Quello che vuole dire questo Consiglio Comunale è che chiedono anche giustamente gli imprenditori, perché qui è vero non si parla solo di cultura, qui si parla anche di commerciale, cioè questa è un'operazione comunque commerciale e non dobbiamo avere paura di questo tipo di operazione. Quello che ci chiede l'impresa è quella di dire vogliamo sapere solamente se il Comune di Montalto se noi portiamo il progetto ci prende a schiaffi, cioè se noi andiamo ospiti da qualche parte, apriamo la porta e ci prendano a schiaffi oppure se ci accolgono e ci danno la possibilità di presentare quello che proponiamo. E mi sembra giusto dargli questa opportunità, questa chance, perché comunque chi investe tanti soldi anche in quella che sarà la progettazione, abbia almeno il diritto di sapere se uno li schiaffeggia o seppure li accoglie con entusiasmo. Io li accolgo con entusiasmo, spero che il Consiglio Comunale li accolga con entusiasmo, questo è lo spirito proprio di questa delibera che abbiamo voluto portare qui in Consiglio Comunale e spero che si realizzerà, cioè spero che poi tutto ciò che ruota intorno al territorio che può essere l'agricoltura, il parco di Vulci, tragano beneficio perché non è vero che Roma esista e nessuno viene a visitare questo tipo di parchi, io li ho visti in giro questi tipi di parchi. Cioè la Roma che è ricostruita qua non esiste più a Roma, molti croceristi rimangono a Civita Vecchia, non vanno manco a Roma, quindi bisogna portarli, bisogna seguire un po' l'esempio di alcuni imprenditori locali che se li sono andati a caparrare sotto le navi da crociera e se li sono portati a casa. Li portiamo anche al parco di Vulci perché se solamente l'1% di quelli che magari visiteranno un parco del genere perché a tratti da un punto di vista commerciale, perché purtroppo attrae più il commerciale che il culturale, se noi riusciamo a portare grazie a questa iniziativa anche persone al parco di Vulci, abbiamo vinto, ma abbiamo vinto anche realizzando questo parco a tema. Ecco quello che dicevo prima, bisogna crederci perché molte opportunità, non Montalto, non Fiorito che ha fatto altre cose, non Tarquigna col quale mi sono rapportato anche in questi giorni e in queste ultime ore, ma proprio anche l'Italia se le è fatte sfuggire molte occasioni per la lentezza con cui la politica prende alcune decisioni. Quindi io vi rinnovo l'invito a votare a favore, anche voi della minoranza, a votare a favore del ricepimento di questo protocollo d'intesa, qualora vogliamo poi discutere in sede di, quando ci penserà anche poi l'assessore all'urbanistica, di stesura della convenzione di benefici per il territorio eccetera, così sono disponibilissimo a parlarne insieme perché tutto ciò che porta beneficio al territorio, oggi c'è questa amministrazione, domani ci saranno altre amministrazioni, deve essere comunque sicuramente condiviso anche da chi sta dall'altra parte in minoranza del Consiglio Comunale. Allora direi di passare alla votazione, chi vota a favore? Astenuti? Contrari? Per l'immediata eseguibilità? A favore? Contrari? Astenuti? Non c'è l'immediata eseguibilità, sì. Per quale ragione? Perché l'immediata non è che c'è una ragione, è una valutazione del Consiglio Comunale? Sì, è una scelta del Consiglio Comunale. No? No, che caso. Quando c'è una sedenza? Il problema è che c'è l'immediata eseguibilità. E' un qualcosa in più. E' previsto dalla normativa, mi sbaglio? Dottore? E' previsto il Consiglio. Si esprime per l'immediata eseguibilità. Allora, chi è a favore per l'immediata eseguibilità? Chi è contrario? Chi è astenuto? No comment. La minoranza non vota. Approvato. Chi è a favore per l'immediata,